Il campionato nazionale Serie A2, ok pista 21-22, terza giornata di andata, girone B, incontro Gamma Innovation, ok Sarzana, Blue Factor Castiglione. Marlini per, e c'è la rete, c'è la rete, e c'è la rete del Castiglione, dopo 4-24 dall'inizio del tempo, con Bertolucci, arma bianca, Bertolucci in mezzo, Marchetti, rete, grande azione di Mirko Bertolucci. Tra gli applaudi del pubblico, presente, Bertolucci perde la pallina ma ha un rimbalzo difettoso sulla pista, involontariamente, e ora c'è un blu. Muralli respinge Mecchini, ancora Muralli, chiude ancora Mecchini alla grande, come ripeteremo sicuramente nel replay. Cinquini, Cinquini, rete, Cinquini per Pistelli, e si è ripetuta l'azione della rete nel primo tempo di Marchetti. Tra gli applaudi del pubblico di Federo Sonera, Cinquini. Cinquini, grande Bertolucci, ripartenza, Pistini in mezzo, Cinquini, rete, grande azione di Gamma Innovation, Bertolucci, Pistini, Cinquini per la terza rete. Cinquini, cinquini, rete, raddoppio personale di Ennis, Cinquini, qui dal polivalente, 16, e 46. Cinquini ancora, Cinquini, rete, Cinquini, incontenibile per Gamma Innovation. Gamma Innovation, chiude 5 a 1 su Castiglione.